Allora oggi trattiamo un argomento veramente affascinante e in questo momento storico più utile che mai. Scienza Scienza L'inganno ipnotico Scienza Quindi la teoria che il Coca-Cola virus vola nelle case e ci contagia, vola nelle strade e ci contagia ovviamente non è scientifica Quindi io non ci credo e ho verificato empiricamente che il virus non è un qualcosa che ci colpisce dall'esterno Attenzione alle parole, attenzione alla chimica della parola Attenzione all'ipnosi, qualcosa che ci colpisce dall'esterno quando invece il virus è un qualcosa di ubiquitario All'interno del nostro DNA che dall'interno si proietta all'esterno, nel senso che si attiva in modo intelligente Quindi al contrario di quello che ci hanno fatto credere per ucciderci, per colpirci Lui al contrario si attiva per trasmutare dei processi biologici nel nostro corpo Non c'è nulla da tenere da fuori perché tutto il mondo è dentro di te ed è una proiezione ed una manifestazione del tuo interno Grazie a tutti! Grazie a tutti